Ben ritrovati all'appuntamento con le previsioni di Trevimetto.com. Nel weekend rinforza l'alta pressione sulle regioni centro-medionari che garantirà una giornata di sabato in prevalenza ben soleggiata su tutto il centro-sud. Non così invece al nord l'ambito da correnti atlantiche più umide e instabili che determineranno acquazioni temporali frequenti su Alpi e Prealpi ma in sconfinamento anche alle alte pianure. Vediamo adesso le temperature partendo dai valori minimi che saranno stabili un po' su tutte le regioni. Le massime invece aumenteranno al centro-sud ma rimarranno comunque prevalentemente al di sotto della soglia dei 30 gradi salvo per rare eccezioni mentre diminueranno lievemente al nord-ovest con un calo che sarà più avvertito in montagna. Vediamo adesso le previsioni per il nord dove la giornata sarà decisamente instabile su Alpi e Prealpi con piogge e acquazioni diffusi fin dal mattino ma in sconfinamento durante le ore pomeridiane e anche alle alte pianure. Invece sarà in prevalenza asciutto sulla Valpadana meridionale e lungo le coste. Vediamo ora il centro dove la giornata invece sarà in prevalenza soleggiata seppur con il transito di qualche nube qua e là ma di poco conto. Nube un po' più consistenti soltanto sull'Alta Toscana e lungo la dorsale ma appunto senza fenomeni. E fino al sud sarà una bella giornata di sole su tutte le regioni anche qui ci sarà soltanto qualche nube di passaggio qualche nuvolamento diurno sui monti ma veramente di poco conto. Bel tempo per tutto il giorno anche sulle isole maggiori e in Sardegna dove appunto splenderà il sole per l'intera giornata. E per adesso è tutto per maggiori aggiornamenti come di consueto consultate il sito www.trevimeto.com o scaricate le nostre app per smartphone e tablet. Grazie a tutti.